C'è uno di... c'è uno dietro al barco dietro Perché uno di... il barco rosso di turno evidentemente Niente di wind questa sera C'abbiamo un piccolo problema tecnico C'è un problema tecnico C'è un problema tecnico? Non lo so Cosa sentite? Si sta smontando la batteria? Che per solito? Funziona? Che sta succedendo raga? In Olanda quando c'è stato un problema tecnico abbiamo fatto il quizzone Vediamo un po' Vabbè, vabbè, ok, ok Oh, Giacomino Ma era quasi più bello Che succede dietro? C'è un po' di casa, senti un po' paura Guardate continuo a vedere Regà, si sta a casa che non fa lo show tutto da solo Regà, se il prossimo resto si chiama Gara Believe Se ci siete, se ci siamo più che altro Parla più o meno della vita da tour Molti di voi, quelli che non suonano per lo meno Vedano solamente la band per l'aspetto sul palco Quindi gran sorriso, gran divertimento Ma non è sempre così Allora dedicai questo pezzo agli amici, gli airway Di cui tre di loro sono qui questa sera In generale a tutti quelli che suonano Questa è ancora da lì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti